Noto gran concerto, fanfare dei carabinieri, sindaco conferisce cittadinanza onoraria al generale Rosario Castello. Nell'ambito delle iniziative della Primavera Barocca 2022 della 43esima edizione dell'Infiorata, ha noto in piazza Municipio la presenza del sindaco Corrado Figura, di Sua Eccellenza il profetto Giuseppe Scaduto, del Vescovo Monsignor Antonio Stagliano, il Presidente del Tribunale, Dottoressa Dorotea Quartarara, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il Generale Brigante Rosario Castello e di tutte le autorità civili e militari della provincia, la fanfare del XII Reggimento Carabinieri Sicilia ha tenuto un concerto aperto a tutta la cittadinanza con un programma musicale che ha spaziato da brani di opere di noti musicisti e compositori, quali Verdi, Morricone, alla riproposizione di un medley dei Pooh, sapientemente presentati da Giuseppe Spicuglia. Il concerto, ottimamente eseguito dai 30 componenti agli ordini del maestro e logotenente Paolo Mario Sena, si è conclusa con la fedelissima, la famosa Marcia d'Ordinanza dei Carabinieri, con l'Inno Nazionale Italiano. Gli oltre 2.000 presenti hanno lungamente applaudito l'esibizione. L'ultima presenza della fanfare dei Carabinieri è noto risale al 18 settembre del 2021, in quell'occasione un concerto fu tenuto per l'istituzione della locale sezione ANC. Tra le altre iniziative promosse dall'amministrazione comunale, all'interno della sala consigliare di Palazzo di Scezio, il sindaco di Noto ha consegnato al generale di brigata Rosario Castello, comandante della regione Carabinieri Sicilia, la cittadinanza onoraria, con la seguente motivazione. Per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrata in favore dello Stato e delle sue istituzioni, ispirati a valori quali onestà, impegno sociale e civile, per la costante presenza e sostegno a favore degli enti locali nell'affrontare delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio, non solo Nettino, ma della Sicilia tutta, per la difesa e la sicurezza dei cittadini e del bene comune. Particolare interesse nel numeroso pubblico presente, inoltre è stato suscitato dallo stand, che l'arma dei Carabinieri ha realizzato in quella piazza ai Caduti, con l'esposizione statica di mezzi di istituto e di cimeli provenienti dalla Sala della Memoria del Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo, nonché della composizione floreale raffigurante lo stemma raldico dell'arma realizzato da abili infioratori della zona.